Si anticipa di qualche mese l'appuntamento più atteso con la pizza napoletana sul lungomare Caracciolo. La settima edizione del Napoli Pizza Village aprirà i battenti sabato prossimo, 17 giugno, per concludersi domenica 25. Nove giorni di evento che quest'anno prevede il sabato e la domenica, apertura anche a pranzo a partire dalle 12. Sul lungomare saranno allestiti 50 forni delle migliori pizzerie, 5.000 ai posti a sedere e possibilità di degustare il menù completo, sempre al costo di 12 euro, che include pizza, bibita, caffè e dolce. Apriamo di fatto l'estate a Napoli, ma come diceva sicuramente tanta pizza, i pizzeri napoletani sono i protagonisti dell'evento, con 50 tra le pizzerie più famose di Napoli, ma soprattutto con tanti contenuti di qualità e da quest'anno protagonista ancora di più sarà il palco del Napoli Pizza Village, con tantissimi spettacoli, musica, cabaret e intrattenimento e con il media partner d'eccezione che è la nostra radio RTL 125, grazie ai quali saremo in diretta nazionale in radiovisione per nove sere consecutivamente. La manifestazione dedicata alla pizza si arricchisce quest'anno di un fitto programma di eventi gratuiti con ospiti nazionali, ci saranno i The Colors, Ermal Meta, Alex Britti, Bianca Azei, Paola Turci, Gigi D'Alessio, numerosi artisti napoletani ed ospite d'eccezione, mercoledì sera Francesco Gabbani. Un programma eccellente non solo di pizze tradizionali ma anche di cultura, di sport, di spettacolo, di intrattenimento, investimenti importanti di Trenitalia, di RTL, insomma si si punta al milione, questa è la sfida che hanno lanciato gli organizzatori, lo sapete a me le sfide piacciono, quindi 17 vado ad inaugurare, secondo me anche se le condizioni complessive danno una mano possiamo arrivare a quel risultato, dai 600 mila dell'anno scorso dove le condizioni meteorologiche non furono tra le migliori, quest'anno possiamo arrivare al milione. Lunedì 19 prenderà il via il sedicesimo campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo, per tre giorni alla Rotonda Diez si sfideranno circa 600 pizzaioli da oltre 40 paesi del mondo e spazio anche all'arte con la possibilità di accedere gratuitamente acquistando un coupon da lunedì 19 a venerdì 23 alla mostra di Vittorio Sgarbi, i tesori nascosti allestita fino al 20 luglio presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta.